Adesso dobbiamo affermare che sta la città caratterizzata da queste cose che non c'è praticamente rischiato e neanche tutto abbastanza mangiato. Questa è la lina pianofiaria che corre, che è interrotta perché ovviamente è totalmente connessionistante, ma anche rispetto all'interessore del mare, non c'erano i cuochi dell'anno. Questo che si vede qua sotto, aperto, è proprio quel canale intubato, ma questo è uno dei tanti esempi di questa situazione con l'uomo. Questa c'è nel parcheggio, è chiaro che un po' poi ha fatto saltare.